Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo parlandovi dell'emergenza coronavirus, emergenza che però si appresta a vivere la fase 2, come ormai ben sappiamo, e anche le strutture ospedaliere si apprestano ad affrontare questa seconda fase. Questa mattina siamo andati all'ospedale di Fano, assieme all'operatore Filippo Pucci, e abbiamo parlato col dottor Frausini. Sentite che cosa ci ha detto. Dal lunedì prossimo entrano nella fase 2 anche le strutture ospedaliere di Marche Nord, dopo la stremante ed incessante lotta contro il virus degli ultimi due mesi. Gli ospedali, i servizi, gli spazi interni e gli operatori sanitari, dopo aver avuto la capacità straordinaria di modellarsi intorno all'emergenza, e che hanno gestito dal 26 febbraio ben 750 ricoveri con capacità camaleontiche, grazie alla professionalità delle sue eccellenze, ora si avviano verso la normalizzazione, seppur con la guardia ben alzata, potendo però registrare il confortante dato di soli 7 pazienti in terapia intensiva e di avere per il Covid 83 ricoveri. Il virus non è sconfitto, però l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo combattuto, e i numeri cominciano a dire che tutto quello che è stato fatto giustamente dalla gente, con dei sacrifici che noi capiamo quando siano stati importanti, però hanno dato i risultati, il distanziamento sociale ha dato i suoi risultati e quindi l'azienda si è organizzata per partire con questa fase in cui verranno riprese in carico anche tutte le patologie non legate a questo maledetto virus. Già dei passi sono stati fatti, è stata riaperta la geriatria nella giornata di ieri e soprattutto sono stati creati dei percorsi di sicurezza che cominceranno molto presto anche con un termoscano esterno, per cui le persone verranno tutte valutate in base alla temperatura corporea che deve essere inferiore a 37,5 e ripeto 37,5 come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti quelli che avranno temperatura maggiore verranno in qualche modo valutati. Quindi ci saranno dei percorsi ben divisi, un percorso pulito in cui sono tutti i pazienti no Covid, dal paziente invece sporco, tra virgolette i pazienti positivi al Covid, ma abbiamo soprattutto pensato una zona intermedia, una zona grigia estremamente importante per tenere in isolamento in stanze singole le persone che ancora non hanno fatto il tampone o che nonostante un tampone negativo ci danno molte perplessità sul fatto che sia negativo. Forse la gente si è fidata poco in questo periodo di entrare in ospedale. La gente è rimasta chiaramente impaurita, io la capisco, però adesso il messaggio deve essere che ci sono dei percorsi di sicurezza che mettono al riparo da possibili sorprese negative in termini di contagio ma che danno la possibilità a curare delle altre patologie perché è vero purtroppo si è morto di Covid ma non scordiamoci che si continua a morire per malattie cardiovascolari, per l'ictus, per l'infarto, per patologie tumorali e così via. Voi sanitari e tutti gli operatori manterrete le stesse disposizioni che avete avuto fino adesso? Assolutamente, noi dobbiamo lavorare come se tutti i pazienti fossero positivi e questa è una garanzia per noi per carità ma soprattutto per non essere noi poi fonte di contagio. Bene, è lutto nel mondo della sanità perché se n'è andato il dottor Giancarlo Renzi, primario di psichiatria per quasi 30 anni dagli anni 80 fino ai primi del 2000. Inizialmente al San Benedetto di Pesaro, poi al Santa Croce di Fano, adesso è primere Cordoglio, è stato il direttore dell'area Vasta 1 insieme al Dipartimento di Salute Mentale. È stato non solo un valente professionista, si legge in una nota, ma anche un maestro di umanità capace di trasmettere ai suoi collaboratori la passione per la professione e la capacità di entrare in contatto con l'utenza in modo empatico. La sua capacità di insegnare, conclude la nota, permetterà a chi lo ha conosciuto di trasmettere a sua volta l'etica dei rapporti con i suoi pazienti. Fase 2, e la fase 2 passa anche attraverso l'analisi dei contagi e quale sarà l'evoluzione e sembra, stando alle statistiche, che la seconda ondata ce la dovremo aspettare. Simona Zonghetti ha intervistato questa mattina il direttore Marco Pompili, che fa proprio il punto su questa situazione. Pompili, il virus è ritirato, abbiamo visto in questi giorni anche una discesa della curva dei contagi, lunedì ripartiranno alcune attività, ma non si può ancora abbassare la guardia. Si è tanto discusso anche sulla fase 0 contagi, ma Regione e Osservatorio nazionale avevano dei dati e opinioni diverse. Oggi qual è la situazione? La situazione è che noi abbiamo fatto un'indagine più approfondita, abbiamo diviso la Regione in tre aree oggettivamente, che sono quelle di intensità del virus. Fermo, Ascoli, Piceno, Macerata, Ancona e la provincia di Peso Rubino. Abbiamo stimato per Fermo e Ascoli, che hanno già raggiunto lo 0 alternato, quindi hanno già toccato lo 0, quindi sono già in una fase di uscita importante. Macerata, Ancona abbiamo stimato per metà maggio, la stima di uscita con lo 0 alternato, stiamo parlando sempre, Simona, quindi tocca lo 0. E la provincia di Peso Rubino, che ha avuto un'intensità diversa, quindi ha una curva non logaritmica, molto diversa, abbiamo stimato per la fine di maggio. Secondo una vostra indagine, un contagio su tre è domestico, avviene sotto lo stesso tetto. Quali sono gli accorgimenti anche magari più importanti da rispettare in casa? Quali sono i dati che avete? Allora, qui abbiamo fatto delle indagini approfondite per capire come avviene il contagio, ci sembrava molto importante capirlo. Ti do una notizia, Simona. Uno su tre avviene nel luogo domestico, sì, e il 10% nel luogo domestico tra parenti, quindi vuol dire padre, figlio, nonno, eccetera. Quindi vuol dire che negli ultimi contagi, concentrati negli ultimi dieci giorni tendenzialmente, noi abbiamo uno su tre è un contagio intradomestico, il 10% intradomestico tra parenti e il 9% avviene da un altro luogo domestico che è RSA, casa lungodegenza, eccetera. Quindi il contagio negli ultimi dieci giorni per quasi due su tre è entro le mura domestiche complessivamente. Possiamo dire che un caso su dieci degli ultimi venti giorni è avvenuto all'interno di una residenza domestica, un RSA, una casa lungodegenza per anziani. È chiaro che questa è una trasformazione nel senso che ultimamente abbiamo anche visto che l'età media ricovero è più alta rispetto a 30 giorni fa. Quindi oggi abbiamo capito che il virus ha toccato anche le persone un po' più fragili e lo vedi anche dall'accesso intraospedaliero che ha una media di degenza più alta rispetto alla fine di marzo. Questo è un aspetto molto importante che cambia anche le politiche di attuazione. C'è il timore che a settembre-ottobre ci possa essere una seconda ondata dell'epidemia, conferma questo rischio? Allora ci sono diversi studi che indirizzano, anche guardando Extra Italia, Extra Europa, indirizzano verso altre ondate di intensità diversa. Detto questo non dobbiamo farci trovare impreparati, sarebbe una colpa importante questa. È chiaro che abbiamo risposto adesso in modo positivo perché guardando tutte le curve ci dicono che abbiamo risposto meglio delle altre regioni. Noi a un certo punto il nostro picco si abbassa con un'intensità maggiore delle altre. Detto questo però è chiaro che dobbiamo prepararci, ci sarà un'altra ondata, speriamo di intensità minore chiaramente, però abbiamo degli alert territoriali che ci garantiscono adesso l'individuazione immediata dei focolai perché ti dico solo una cosa al volo, abbiamo dei sistemi di alert su base comunale che ci indicano quasi in giornata dove avvengono i vari focolai e quindi questo ci fa un pochettino stare tranquillo sull'individuazione immediata dei singoli casi. Le aziende potranno effettuare su base volontaria il test sierologico sui dipendenti, lo ha stabilito la giunta regionale con una delibera che estende la sperimentazione dei test sierologici già prevista per gli operatori sanitari, per le forze dell'ordine, le forze armate e i vigili del fuoco. L'atto fornisce le indicazioni sui comportamenti da tenere sulla base dell'esito del test sierologico e indica l'obbligatorietà del tampone qualora il risultato dell'anticorpo risulti positivo. Per l'esecuzione dei tamponi le aziende dovranno rivolgersi ai laboratori validati con questa specifica attività. E sempre in ambito di ordinanze regionali parliamo dell'ordinanza numero 27 con la quale il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, consente a partire dalle ore 24 del 4 maggio prossimo le passeggiate in spiaggia, svolte in maniera individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre norme di ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus. Sono vietati gli assembramenti e le soste sulla renile. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa del pagamento di 400 euro. E sempre a tema coronavirus andiamo adesso in via dei cacciatori a Pesaro dove oggi pomeriggio per effettuare il secondo tampone di controllo si sono formate delle code anche di due chilometri. Una delle persone che era in coda proprio per effettuare aspettando il proprio turno il tampone ci ha mandato un video e guardate che cosa ci dice. Ciao a tutti, dato che mi annoio faccio un video così vi mostro la situazione. Sono ancora in fila per fare il tampone e da tanto ormai che sono in fila e sì, sono andate un po' più avanti ma non di molto. Saranno già tre quarti d'ora che sono qua che aspetto insieme a tutte queste altre macchine. Così vedete meglio qual è la situazione qua in strada dei cacciatori. L'appuntamento era per le due e mezza, siamo tantissimi. Il primo tampone ho aspettato massimo penso dieci minuti, non di più. Questo è quanto. Sono in fila per fare il secondo tampone, sempre in strada dei cacciatori. E' la differenza dell'altra volta, non so se si riesce a notare, forse dallo specchietto, dal numero di macchine dietro e davanti a me ci saranno, non so, un centinaio di macchine, forse anche più. Aspettano tutti per fare il tampone. E l'ICS, l'Organizzazione Mondiale dello Shipping, in occasione della Festa del Lavoro, sta promuovendo un'iniziativa volta a far sì che il maggior numero di navi attraccate nei porti di tutto il mondo suonino le sirene di bordo alle ore 12 locali del 1 maggio, con lo scopo di ricordare il contributo dato dai marittimi nella vita economica e sociale dell'intero pianeta. Il corpo delle Capitanerie di Porto, quale segno di vicinanza, ha deciso di aderire a tale iniziativa, inviando i propri comandi sparsi lungo gli 8.000 km di costa, a far sì che le dipendenti motovedette in servizio nella giornata del 1 maggio suonino loro sirene unite a quelle delle unità mercantili. E sempre sul lavoro in tema di Festa del 1 maggio, lavoro in sicurezza per costruire il futuro, è lo slogan dei sindacati, delle marche, proprio in occasione della Festa dei Lavoratori e richiedono più sostegno e reddito a lavoratori e imprese. Il servizio è di Francesco Salvago. Difficile celebrare la Festa del Lavoro, se è proprio il lavoro che manca. A pochi giorni dalla fase 2, il tema lavoro diventa sempre più centrale, accanto a quello sanitario. Ma ancora tante le incertezze sui tempi, regole e sostegni economici per i lavoratori. Il 1 maggio quest'anno si presenta in una forma inedita, come mai era accaduto dal secondo dopo guerra ad oggi. I sindacati CGL, Cisle, Will, Marche non potranno essere presenti nelle città con le proprie bandiere a manifestare a fianco a fianco ai lavoratori, ma lo faranno attraverso la costituzione di un'immensa piazza virtuale, ribadendo il concetto del lavoro in sicurezza per costruire il futuro. La ricorrenza cade in uno dei momenti più drammatici della storia recente d'Italia. Un intero paese è impegnato a vincere la battaglia contro il Covid-19. La minaccia sanitaria si è trasformata in emergenza sociale ed economica. L'omaggio della festa sarà dedicato alle tante vittime registrate nell'emergenza, al commosso tributo, a tutti gli operatori, sanitari che hanno sacrificato la vita, pur di non venire meno, al dovere di assistenza verso gli altri. È stato un lavoro sfiancante, ribadiscono i sindacati, ai limiti della sostenibilità, condizionata da un'ondata emergenziale che ha colto in preparate tutte le strutture e ha scardinato ogni assetto organizzativo. L'auspicio che riservano a tutti i lavoratori è quello di sostenere attraverso i provvedimenti il reddito dei lavoratori e i bilanci delle imprese. Rimangono fondamentali, concludono i sindacati delle Marche, gli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali, liquidità delle aziende e snellimento di procedure. E con la ripresa delle varie attività, anche il comune di Cogli al Metauro riapre i cantieri sospesi per l'emergenza Covid-19 nella giornata di lunedì 4 maggio. Infatti riapriranno e ripartiranno i lavori ai cimiteri di Serrungarina e Montemaggiore al Metauro, che erano già a buon punto. La prossima settimana, afferma il sindaco Stefano Guzzi, apriranno anche il cantiere per l'asfaltatura della zona industriale di Via dei Laghi ed inizieranno i lavori della rotatoria dell'uscita superstrada di Calcinelli, che la comunità attendeva da anni. Si partirà, continua il sindaco Auduguzzi, con il risanamento completo delle reti fognare e acquedotto lungo Via Ponte Metauro e dalla sede ferroviaria del sottopasso della superstrada a cura di Marche Multiservizi. I lavori, conclude il primo cittadino, si protrarranno per diverse settimane, causando sicuramente qualche disagio alla circolazione e alla cittadinanza. E sempre in tema di lavori pubblici andiamo a Peslo, dove il Comune comunica che da lunedì 4 maggio del 2020, per circa sei settimane, la strada statale 16 sarà interrotta nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Colve per i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia. A causa della chiusura verranno apportate le seguenti modifiche alla circolazione. I veicoli che si sposteranno tra Pesaro e Fano dovranno utilizzare la strada panoramica Ardizio. In alternativa è consigliato anche l'utilizzo dell'autostrada. L'utilizzo di via Colve come passaggio di veicoli in alternativa alla statale 16 per andare da Fano a Pesaro e viceversa è consentito solo per le forze dell'ordine. I mezzi di soccorso ed emergenza, i mezzi di trasporto pubblico e di residenti. E sempre da lunedì 4 maggio i centri di raccolta differenziata a Fano, Pergola e Calcinelli di Coglie al Metauro saranno riaperti secondo i consueti orari, ma l'accesso al pubblico sarà consentito solo su prenotazione telefonica nei giorni e negli orari che potete vedere in questo cartello. Inoltre sarà riattivato il centro ambiente mobile a San Costanzo, Cartocetto e Fossombrone sempre a partire da lunedì e secondo le aperture programmate nel calendario 2020. Il servizio rimarrà ancora sospeso però a Fano. L'accesso sarà consentito contemporaneamente ad un numero limitato di persone alle quali sarà richiesto di indossare mascherina e guanti mantenendo le distanze di sicurezza richieste dal personale addetto. Sempre lunedì sarà riattivata la prenotazione telefonica del servizio di raccolta ingombranti a domicilio in tutti i comuni soci. Bene, insomma, la solidarietà non si ferma neanche in questo momento. Geni alimentari di prima necessità per chi non può permetterselo. È l'iniziativa di una parrocchia fanese. Il servizio è di Filippo Pucci. Chi ha metta, chi non ha prenda. Dice così il cartello affisso all'ingresso della chiesa della parrocchia di San Paolo nel quartiere del Vallato di Fano. L'iniziativa di solidarietà nata in questo periodo di crisi è rivolta a quelle persone e a quelle famiglie che a causa dell'emergenza lavorativa dovuta al coronavirus non riescono ad arrivare a fine mese. Il motto Chi ha metta, chi non ha prenda nasce dall'idea di Giuseppe Moscati, medico napoletano proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e vissuto più di un secolo fa. Dopo ben 130 anni, i suoi insegnamenti ancora producono effetti positivi e di generosità tra la popolazione che si trova ad affrontare oggigiorno un momento particolare della propria vita. Si lega strettamente alla comunità parrocchiale dove si vive la carità, la carità che è l'Eucaristia ma la carità che è anche quella che tutti i giorni vive nelle nostre case, nelle nostre vie quindi il significato è quello proprio di far conoscere a tutti che questo tempo si vive certamente con difficoltà ma che insieme riusciremo a superarlo. Fuori dalla chiesa un carrello della spesa dove chi vuole può lasciare un segno inserendo beni alimentari per chi appunto non può permetterselo. Sì, ecco, la carità della nostra parrocchia vive diversi livelli di aiuto il pacco che ogni mese possiamo dare gli aiuti anche a comprare del cibo fresco questa iniziativa è particolare in questo senso perché mettiamo semplicemente un carrello della spesa davanti alla porta della parrocchia dove le persone liberamente possono recarsi per pregare però vanno a fare la spesa quindi è un momento di passaggio e in questo passaggio chiediamo a chi ha di mettere qualcosa nel carrello e a chi non ha di prendere tutto questo si fonda sulla fiducia che noi abbiamo nei riguardi delle persone sia di coloro che hanno bisogno sia di coloro che danno ecco, è una... perché credo che in questo tempo c'è anche un po' di difficoltà da parte di alcune persone nel far emergere una povertà che sta venendo fuori adesso ma che in qualche modo però deve avere delle risposte decise quindi possono farlo del tutto anche senza farsi vedere con tranquillità davanti a quello che possono prendere però vorrei dire ecco che ci sono dei fatti anche belli che ci fanno... che vorrei sottolineare e lo dico in questi giorni quando la gente porta porta quello che compra al supermercato ci sono magari tre barattoli di fagioli in un'unica confezione tre scatole di tono in un'unica confezione ho visto che alcune persone che prendono prendono semplicemente una scatola di fagioli lasciando lì le altre due quindi non c'è nessun tipo di accaparramento nessun tipo... non c'è gente che arraffa e che prende dall'altra parte sono anche convinto che è un po' questo qualcosa che si gonfia e che si sgonfia per esempio l'altra sera quando a porte chiuse celebravo l'Eucaristia entrando in chiesa chiudendomi era vuoto il carrello e in mezz'ora subito finita la celebrazione era pieno il coordinamento provinciale Ange e Scaudi Peser Urbino attivando i suoi centri sociali ha donato 3.500 euro alla protezione civile provinciale per l'acquisto di materiale necessario ad affrontare l'emergenza Covid cifra che si aggiunge ai già 5.000 euro raccolti per la campagna Insieme per Marche Nord a livello nazionale Ancescao e APS Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati per Anziani e Orti ha promosso la campagna Mai Soli con Ancescao mettendo in rete le tante iniziative solidali e a supporto della popolazione anziana e realizzare da parte dei volontari dell'associazione all'interno del territorio nazionale Bene, allora vediamo una breve di sport anche lo sport fermo da oltre due mesi e anche per il prossimo futuro c'erano tante manifestazioni in calendario una di queste è conosciutissima qui a livello locale ma anche nazionale stiamo parlando della Colle Marathon che non si terrà ma gli organizzatori però hanno però deciso ugualmente di coinvolgere i podisti sentiamo tutto nel servizio di Matteo Del Vecchio Da 17 anni a questa parte eravamo abituati a questo quando arrivava la prima domenica di maggio adrenalina allo stato puro emozioni e brividi lungo la schiena per tutti i 42 km e 195 metri che separano barchi da fan tragitto della Maratona Internazionale dei Valori e domenica sarà proprio la prima domenica di maggio e per un runner per un amante della Colle Marathon questa data era già segnata col pennarello rosso in calendario da tempo e quindi arrendersi al suo annullamento causa emergenza sanitaria non è stato facile uno sportivo si sa corre per superare i propri limiti ed è proprio quello che succederà domenica 3 maggio quando seppur a distanza e nel rispetto di norme decreti e limitazioni ci correrà ugualmente la Maratona dei Valori che per l'occasione è stata ribattezzata Colle Marcovid nessun assembramento nessun abbraccio nessuno spettatore a darti il 5 al traguardo ma una corsa in solitaria da fare in giardino intorno casa lungo la propria via o magari su e giù per le scale perché l'importante non è il luogo l'importante è correre è questa l'ultima trovata del comitato organizzatore che invita tutti i podisti ovviamente nel rispetto delle norme imposte dal governo che proprio fino a domenica 3 maggio prevedono attività fisica solo nei pressi della propria abitazione a correre singolarmente la propria gara e inviare alla fine una foto con tanto di tempo certificato da un'app o da un GPS che sarà poi utilizzata per creare un collage fotografico più che una gara quindi sarà un modo per restare distanti ma vicini tanto che ai partecipanti è data facoltà di percorrere la distanza che più preferiscono sia essa la maratona la mezza maratona o solo qualche chilometro gli unici vincoli sono quelli temporali si deve terminare la distanza anche a tappe tra le 6 e le 18 e al termine occorre postare su Facebook la foto e la prova GPS seguita dall'hashtag Colle Marcovid per far sembrare tutto ancora più vero inviando una mail entro le 18 del primo maggio all'indirizzo club chiocciolacollemarathon.com oltre a confermare la propria partecipazione si riceverà il pettorale da stampare e attaccare sulla maglietta il coronavirus dunque ha scombinato i piani della Colle Marathon ma non è riuscito a fermarla definitivamente in attesa che nel 2021 si possa tornare ad ascoltare tutti insieme queste noti a provare le stesse emozioni e a sentire quei brividi lungo la schiena bene ed ora in chiusura di telegiornale vi do due comunicazioni innanzitutto vi annuncio che Fano TV trasmetterà la tradizionale festa della Madonna della Colonna si tratta di un rosario mediatico animato da giovani e famiglie che andrà in onda sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 16 e 40 dal Santuario Mariano situato nella zona di Tre Ponti nel territorio della parrocchia Santa Maria Goretti non potendo organizzare il consueto programma per le restrizioni causate dal Covid-19 l'azione cattolica Sant'Orso dedica proprio alla Madonna della Colonna ha pensato di vivere così la festa mariana animando un rosario ricavando le ultime meditazioni di Papa Francesco con immagini e foto del santuario e sempre su questo tema domenica 3 maggio poi trasmetteremo come di consueto la Santa Messa in diretta dal Duomo di Fano a partire dalle ore 10 e preseduta dal Vescovo della Diocesi Armando Trasati bene questo è tutto per questa sera grazie per essere stati con noi fin qui non mi rimane altro che auguravi buona festività del primo maggio e arrivederci alle prossime appuntamenti grazie a tutti Autore dei sorrisi